benvenuti alla puntata speciale dedicata a l'hame non ha il grande luigi costa e costa il famoso night love the club ha chiuso dopo tanti anni e io ho fatto di vivere avevo pensato di far contatti la copia di semplicità patova e france allora lei parla e france buonasera sono il barone dopo nove anni il conte dracula è qui ma ci sono dieci anni che non si doveva parlare perché era famoso il culo si era un po flaccida la cosa che mi manca è un cervello funzionante allora quanto entra al conto al suo mamma alta la mano No, no, no! Dexter! La mano ha preso! Non ho mai... Non mi angoscia! Ok, faccio dare parola! L'altro! No, no! È il mio! Dottor Francia! Buona! Uff! Ho vinto chiamato i loro stiafoi, se lo ricordo al sud! A la cartafil! Unakailis e selfie면! Facialura! Grazie... Grazie! Grazie a tutti